Ciao belle e benvenuti sul canale, io sono buono, non parlo di calcio, o meglio non parlo solo di calcio ma voglio commentare questo fatto, finalmente siamo arrivati alla conclusione del campionato italiano di serie A ed ecco i verdetti. Se volete sostenere il canale i link qui sotto sono in affidazione e se vi dovessi risultare simpatico beh iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i tipi di video, sia sportivi che non, che blog, che curiosità eccetera 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 porta un sacco di roba, è successo, c'è, è finito finalmente il percorso, un anno di calcio, un anno di calcio strano senza pubblico con il covid ma siamo giunti ai verdetti, quello che sembrava ad un certo punto impossibile qualche giornata fa invece si è finalmente e fortunatamente per tutti i tifosi giuventini rivelato vero la stagione è salva, ok, perlomeno dal punto di vista dei risultati, se nel gioco invece latita e non ci sono stati progressi in questo anno che si strano perlomeno dal punto di vista dei risultati le cose sono andate fortunatamente per loro come speravano. Ci ritroviamo con una Juve che riesce grazie a tutto il concatenarsi di risultati ad accedere alle prossime fasi della Champions League dell'anno prossimo, riesce a battere il Bologna indipendentemente da come e da quanto le combinazioni le sono favorevoli lei vince e quindi riesce a qualificarsi ragazzi, che cosa dire? questo Andrea Pirlo alla fine è riuscito pur in un anno estremamente complicato senza pubblico, con il covid, con la rosa sempre non a disposizione in maniera completa a portare a casa due trofei sebbene la Supercoppa tecnicamente è un trofeo che appartiene alla scorsa stagione e a qualificarsi alla Champions. Qual è il problema? Il problema è il come perché questa fatica a qualificarsi solo negli ultimi 90 minuti sicuramente non è piaciuto a nessun tiposo juventino e se dobbiamo essere sinceri a nessun amante del calcio perché la sua squadra in campo non ha mai dato l'impressione di impostare una certa tipologia di gioco fluido, di incantare, di giocare un bel calcio no, è stata una stagione portata avanti su dei singoli episodi, delle singole giocate a Ronaldo più di 30 gol il gol con la Roma di Ronaldo, qualcosa fuori totalmente dagli schemi è però una Juve che nelle due finali che ha giocato si è dimostrata cinica ha portato a casa il risultato, è mancata dal mio punto di vista soprattutto in campo europeo dove con il porto doveva per forza di cose passare indipendentemente dal pubblico non il pubblico, covid eccetera eccetera che cosa fare adesso con Pirlo? cioè dopo il risultato di questa giornata in cui riesce a battere il Bologna e a qualificarsi che cosa fare con Andrea Pirlo? Confermarlo oppure no? devo essere sincero, a me ispira molto questo progetto della Juve se dovesse avere in mente qualcosa alla stile Ferguson Sir Alex Ferguson, l'allenatore più vincente della storia dello United e uno dei più vincenti della storia dello sport beh, ha impiegato sette anni prima di vincere il primo titolo, il primo trofeo con il Manchester United è anche vero che se ogni anno la Juve dovesse iniziare a cercare di arrivare alle fasi finali della Champions per un pelo, beh, forse il progetto Pirlo dovrebbe prendere un'altra strada probabilmente gli darei un'altra occasione ma in altro modo sono altresì sincero che cosa sto dicendo? In altro modo, altresì sincero vabbè, so però che non ha davvero espresso un bel calcio quindi se in realtà si è mollato Allegri diversi anni fa si è passati da Sarri e si è arrivati a Pirlo per cercare piuttosto che un risultato un bel calcio, beh, allora forse sicuramente per il momento Pirlo non è stata la scelta giusta voglio vedere un po' che cosa ne pensano i vertici societari voi che cosa ne pensate? Commentate ricordatevi che io non parlo di calcio quindi se vi iscrivete non fatelo perché sto parlando di calcio e di Bologna Juve e di questo risultato che concede finalmente la Champions League alla Juventus e la Champions League, la qualificazione alla Champions League belli, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa conclusione di campionato che ha emesso i suoi ultimi verdetti commentate qui sotto ciao belli, iscrivetevi ma non parlo solo di calcio non parlo solo di calcio, poi non dite che non ve l'ho detto ciao belli ciao